Benvenuti nel canale Fabio Pecce e se il video ti piace faccelo sapere con un like. Per la prima volta Lorenzo Moruso si è presentato su Instagram per rivelare i dettagli della fine della sua storia d'amore con Manila Nazzaro attraverso il question box. Ecco cosa ha detto, cosa ne pensi dell'intervista della tua ex bellissimo. Non credo perché credo che il passato sia passato e non si possa cambiare. Preferisco concentrarmi sul presente e sul futuro, viste le scelte attuali di Manila. La sottolineatura non è banale. La scelta di rompere non è sua. Quindi aggiunge, non risponderò a ciò che ha detto Manila, ma posso dire che questo genere di cose è una discussione che avviene in molte famiglie moderne. Insomma, all'origine della rottura non c'è stato alcun tradimento o serietà, ma una profonda divisione su come impostare il futuro. E ancora, quando i fagli hanno chiesto di tornare insieme all'ex Miss Italia e ai suoi figli, Nazzaro ha avuto due storie d'amore con il precedente matrimonio con Francesco Cozza. Lui ha spiegato in sei anni. Credo di aver mostrato loro come dovrebbe essere la mia famiglia ideale. Traduzione, Manila sapeva chi era l'altro. Ma poi qualcosa è cambiato. E dopo la rottura? Avete sentito?